E a proposito di consumismo, con il prossimo servizio ci occupiamo di sacchetti di plastica. La decisione del Consiglio dei Ministri di vietarli dal 1 gennaio 2011 adesso è definitiva. Vediamo. Definitivamente, improrogabilmente fuori di scena. Con ben due anni di ritardo, addirittura rispetto alla Cina, dove il loro uso è vietato già dal 2008, anche il bel paese scopre che i sacchetti di plastica inquinano e quindi non si devono usare più. Un divieto che in Italia era destinato a scattare già dal primo giorno dello scorso anno, ma le proroghe da noi, si sa, sono la norma. E allora non un giorno oltre il 1 gennaio del 2011 avremo tempo per disfarci dei vecchi sacchetti di plastica e dedicarci ben più civilmente, come del resto si fa in tutta Europa, a soluzioni alternative per portarci a casa la spesa. Certo, occorrerà che tutti facciano la propria parte, dai distributori ai commercianti fino agli utenti. In molti supermercati sono già disponibili borse in altro materiale, c'è da dire che ce n'è davvero per tutti i gusti. Cotone, iuta o fibre sintetiche per vari formati, colori e fantasie da riutilizzare sempre. Dai portabottiglia ai carrelli portaspesa oggi, tra l'altro, molto di moda. Da ricordare bene che i sacchetti di carta o le borse di materiali biodegradabili, fino ad ora distribuite al posto dei vecchi sacchetti, non costituiscono assolutamente un'alternativa valida. Soprattutto i primi, più cari degli altri e non certo migliori, a meno che la carta utilizzata per realizzarli non sia riciclata. Il beneficio in ogni caso è anche economico. Tutti i materiali alternativi fanno risparmiare petrolio, di cui ai noi siamo folli importatori. Lo dice a chiare lettere anche il CTCU di Bolzano, ovvero il centro di tutela consumatore e utenti. Pensiamo a come molti consumatori si lamentano di come nei supermercati si debbano sborsare anche 5 centesimi o più per avere una borsa di plastica, che funge poi anche da mezzo per la pubblicità di qualcuno. Legalmente è tutto a posto. I consumatori possono tuttavia chiedersi se vogliano continuare davvero ad essere parte di questo doppio business, ovvero prima si paga la borsa e poi la si porta anche in giro come veicolo di pubblicità, oppure se non sia arrivato davvero il momento, proprio dal primo di gennaio 2011, di dire basta a questi prodotti inquinanti. Prodotti che tanti danni hanno già procurato all'ambiente.